Ciao a tutti, oggi risolviamo insieme un problema aritmetico. Io ho già preparato i dati, vi leggo il testo. Il testo dice, il giornalaio questa mattina ha ricevuto 140 giornali. Eccolo qua. E alla fine della giornata ne è rimasto venduto un quattordicesimo. Ecco qua. Un quattordicesimo dei giornali che aveva all'inizio sono rimasti venduti. E il problema chiede quanti giornali sono invenduti. E quindi, ecco lì la mia tesi. Questo è l'esercizio numero 70 del libro UBMAT Aritmetica 1. Comunque troverete tutto scritto in descrizione. Adesso risolviamo. Allora, si fa in un passaggio solo. Andiamo a cercare i giornali invenduti. Il numero dei giornali invenduti. Questo scriviamo una formula generale. Sappiamo dall'ipotesi che è un quattordicesimo dei giornali di partenza. Quindi scrivo un quattordicesimo del numero dei giornali. Ovviamente sono quelli iniziali. E adesso vado a sostituire i numeri. Quindi scrivo un quattordicesimo per 140. Quando si cerca il tot per cento o uno fratto qualcosa o il tot fratto qualcos'altro di, il D si trasforma in un per e io lo segno con il puntino. E adesso vado a fare uno per 140 diviso 14. E questo semplicemente fa 10. Quindi il numero di giornali rimasti invenduti dalla giornata è 10.